Gravissimo l'incidente avvenuto ieri mattina sulla strada provinciale E1. Due autoveicoli, un Audi A5 e una Fiat 600 si sono scontrati nel trafficato tratto Città Nova-Taurianova della strada provinciale, all'altezza di un distributore di carburante. Il fatto è avvenuto poco prima delle 12. Entrambe le vetture, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, stavano percorrendo l'arteria stradale in direzione Città Nova, poi, forse per una manovra azzardata da parte di uno dei conducenti, il violento impatto. Un tamponamento, da quanto si apprende. A riguardo stanno svolgendo certamente i carabinieri della stazione di Città Nova coordinati dal comandante Giuseppe Ciotola. Sul posto è intervenuto anche personale del comando di Polizia Municipale. Le persone coinvolte, tre in tutto, sono state trasportate presso la struttura ospedale del Santa Maria degli Ungheresi a Polistena. Uno dei passeggeri della Fiat 600 sarebbe ancora in prognosi riservata.